Dall'inizio di agosto è in vigore nell'Unione Europea l'AI Act, la prima legge al mondo che regolamenta l'intelligenza artificiale con norme vincolanti. La sua applicazione sarà graduale, entro sei mesi alcune pratiche saranno completamente vietate, come il riconoscimento facciale in tempo reale nei luoghi pubblici, pur con qualche eccezione legata alla sicurezza. Altri strumenti di intelligenza artificiale definiti ad alto rischio saranno sottoposti a controlli severi entro due anni e altre ancora, come il noto programma ChatGPT, dovranno fornire precise garanzie sulla trasparenza delle informazioni che utilizzano. La Commissione europea istituirà un dipartimento per supervisionare l'applicazione della legge, gli stati membri delle autorità nazionali per l'applicazione delle norme sul proprio territorio. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha celebrato il regolamento affermando che guiderà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo al contempo le piccole e medie imprese europee. Il relatore per il Parlamento dell'AI Act, Brando Benifei, spiega invece cosa cambia per i cittadini. Il relatore per i cittadini del contenuto dell'AI-generato, per che le persone possano sapere quando un dipfake che mostrano a qualcuno di fare cose che non ha mai detto e fatto, è in realtà qualcosa che è fake. Quindi, la transparencia. Ma anche, per esempio, la proibizione dell'utilizzo dell'AI per l'emotione di riconoscenza in attività e studiare. E anche, le controllo di alcuni alcuni usi che sono più sensibili, come, per esempio, l'utilizzo di un doctor per il paziente dell'AI-system. Le sanzioni per le aziende che non rispettano le regole possono arrivare fino al 7% del loro fatturato annuo globale, nei casi di utilizzo di sistemi vietati dalla legge.